we sono duke l'amico fedele di rosario voglio raccontarvi una storia ma lontana lontana che inizia nel 1924 a napoli a a a Sì, sì. ehi il mio amico rosario diceva sempre voglio che la mia arte viva tra la gente e che apra la porta alla liberazione ti aspettiamo al museo dove l'arte vive e la vita si va alta ma capite